Mozart non sei degno di te stesso. Così Salieri apostrofa Mozart in un momento di dialogo tratto da Mozart e Salieri il convitato di pietra di Alexander Pushkin. Tanto lo sappiamo tutti che l'odio di Salieri nei confronti di Mozart è stata un'invenzione letteraria partita proprio da Pushkin portata avanti da Schaffner nel suo testo teatrale Amadeus da cui poi è stato tratto il celeberrimo film. Vero che lo sappiamo tutti? Sì ragazzi è un'invenzione letteraria non è assolutamente vero anzi ma di questi dettagli ne parleremo in un'altra in un'altra occasione forse più dedicata alla musica e giustamente vi starete già chiedendo Vir ma perché ci parli di musica? Abbiamo capito che ti piace l'opera? Abbiamo capito che c'è la rubrica tra musica e parole dove parli di opera e di letteratura. Ho capito e abbiamo capito che ti piace ma cosa c'entra? Qui stiamo parlando di libri e romanzi e c'entra perché ho preso in prestito appunto un estratto da Pushkin per introdurre il protagonista di questa puntata o meglio quello che dovrebbe essere il protagonista perché dico così scopriamolo dopo la sigla. Ciao a tutti bentornati nella rubrica vi recensisco dove vi parlo per mia modesta opinione di alcuni libri che sto recuperando oppure che sto leggendo per mio diletto personale o per mia curiosità o per qualsiasi altra voglia motivo. Allora prima di cominciare come al solito è doveroso ed è giusto fare tutta la lunghissima premessa che voglio impegnarmi a ricordare ogni santa volta o meglio cerco di ricordarmela. In primis le opinioni che dirò sono estremizzate in certi punti anche per fare intrattenimento anche se hanno comunque una base di una mia mera opinione personale. A chi è piaciuto il libro assolutamente nessuno si senta toccato l'intento del video non è assolutamente né di offendere l'autore in questo caso gli autori nella casa editrice né chi ha apprezzato il libro né chiunque abbia messo mano a questo libro assolutamente niente di niente quindi mi raccomando prendetela con calma e con leggerezza prendetelo per quello che è un video dove sostanzialmente ci si scambia delle opinioni in merito a dei libri io per carità sono una editor quindi ho comunque un punto di vista professionale ma è il mio personale quindi assolutamente nessuno si sente offeso e probabilmente ci saranno delle battute o delle goliardate per mero e puro intrattenimento ci sarà un sacco di ironia quindi mi raccomando fate i buoni e ho avvisato tutti. Allora benvenuti dicevo in questa nuova puntata di vi recensisco oggi protagonista è il romanzo 1791 Mozart e il violino di Lucifero scritta a quattro mani da Davide Livermore e Rosa Mogliasso edito da Salani nel 2018. Ora questo libricino qui appunto ce l'ho dal 2018 mi fu donato un Natale non da alcuni di voi qui sul canale non era nella mia wishlist ah già giusto vi ricordo che nel caso vogliate possiate e siate tra quelli che mi hanno richiesto la wishlist la troverete qui sotto in descrizione dicevo questo mi fu donato appunto nel 2018 era appunto una nuovissima uscita questa tra l'altro edizione anche molto bella perché oltre a essere cartonata è impreziosita da delle illustrazioni eseguite da Francesco Calcagnini si lo devo leggere perché ogni volta mi confondo e tra l'altro sono delle illustrazioni anche molto belle e sono anche abbastanza inquietanti anzi vi dirò di più mi hanno inquietato più le illustrazioni che certe parti del libro aspetto magari a mostrarvele perché effettivamente potrebbero essere leggermente disturbante quindi ecco aspettiamo un pochettino dicevo nonostante la qualità patata della mia telecamera e prima o poi giuro cambierò la telecamera e metterò una telecamera decente per fare questi video però per ora ragazzi accontentiamoci di quella che c'ho dicevo il protagonista è questo romanzo questo è un thriller storico tra l'altro anche abbastanza corposino ma non vi preoccupate in realtà il carattere del libro è molto largo i capitoli sono anche molto brevi o meglio non è che sono esattamente dei capitoli sono delle parti piccolo avvertimento non leggete l'elenco dei personaggi in fondo al libro perché potreste incorrere in qualche piccolo spoiler anche se ho notato che gli autori sono stati molto attenti gli autori chi sono molto a larghe linee rosa mogliasso è già un autrice che ha pubblicato credo anche per la salani o comunque un autrice già navigata perché ha già pubblicato diversi testi romanzi se non ricordo male pure comunque di genere thriller davide livermore invece è un uomo di teatro è un regista tra l'altro ha curato anche alcune delle edizioni della prima la scala quindi è un personaggio direi abbastanza influente diciamo abbastanza grande conosciuto ovviamente dell'opera del teatro di tutte le sue dinamiche tra l'altro nella nella copertina qui trovate anche appunto alcune indicazioni su davide livermore e su rosa mogliasso e ovviamente anche su calcagnini che è l'artista che ha ideato le illustrazioni che ripeto sono state pinquetanti quelle della storia allora ragazzi questo libro devo sclerare devo dire oh mio dio che cos'è soprattutto dato l'incipit iniziale devo infuriarmi perché mozart in questo libro non esiste no diciamo che in un'ipotetica valutazione in un'ipotetica scala da 1 a 5 ci queste linee per esempio a questo libro io do un tre però tirato perché sì bello è anche scritto bene è scorrevole però ci sono stati dei punti che non mi sono tanto piaciuti o meglio non mi hanno tanto convinto dei punti che secondo me se l'editor oppure chi ha lavorato al testo gli autori stessi ci avessero riflettuto secondo me avrebbero creato una chicca davvero interessante questo libro se lo cercate in giro non se l'è filato nessuno della serie virma perché non porti dei testi di cui parlano tutti tipo adesso stanno parlando tutti di questo romanzo fantasy romance che si chiama fourth wing no non ho intenzione c'ho questo è uno dei libri con la mia pila della vergogna per il momento non ho sentito l'esigenza di prenderne degli altri già buona che cercherò di far fuori questi per quanto sono comunque aperta dei suggerimenti chiaramente però diciamo che per adesso vorrei cercare di tenermi nei libri che ho già in nei miei 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 scaffalini dicevo questo romanzo non se l'è filato nessuno per diverse motivazioni uno il fatto già che si rivolge a una certa nicchia di lettori perché per leggere questo romanzo innanzitutto deve piacere il thriller storico che è già una nicchia specifica inoltre quella nicchia specifica di trailer storico deve avere già delle conoscenze o una passione abbastanza sostenuta sulla musica classica sull'opera sul teatro deve essere abituato agli sbalzi temporali non deve andare in agitazione per i trigger warning che ovviamente in questo libro sono potete metterci tutti i trigger warning che volete ci sono qua dentro quindi andate sereni c'è tutto credo ci siano tutti i trigger no non tutti i trigger warning possibili però ce ne sono parecchi di quelli classici quindi attenzione e ci sono delle parti che secondo me potevano o essere tagliate oppure meritavano proprio una storia parte ma adesso a questo ci arriviamo con calma di che cosa parla 1791 mozart e il violino di lucifero sì questo è tutto il titolo signori e quindi al massimo posso tradurlo con mozart e il violino di lucifero allora questa storia è un po' articolata io l'ho già terminata di leggere da qualche giorno probabilmente voi vedrete questo video tra qualche settimana io lo sto registrando in una fredda anzi una gelida serata di dicembre molto pre natalizia però diciamo che è comunque per la mia linea temporale è passato tipo qualche giorno forse un cinque giorni da quando l'ho terminato ufficialmente quindi ho la trama abbastanza fresca ma al contempo andrò un attimino a recuperare certe parti perché ha talmente tanti salti temporali questo libro che effettivamente ogni tanto mi perdevo anche io dicendo ma perché stiamo saltando a questo da una parte capisco il senso del saltare temporalmente perché da una certa dinamicità all'interno della storia lo capisco dall'altra parte considerando la macchinosità secondo me già della trama di base a mio avviso sarebbe stato meglio concentrarsi su un momento storico al massimo fare qualche capitolo di flashback ma non saltare così spesso perché se un lettore non è abituato potrebbe non trovarsi bene per cui ritornando al ragionamento che stavo facendo prima purtroppo per apprezzare questo libro ci vogliono tante componenti di una nicchia di persone già trovare appassionati di musica classica e di opera nonostante da una parte fortunatamente stia prendendo piede è già un po complicato e qui ci sono veramente tanti elementi che fanno riferimento cose del genere per quanto comunque alcune cose vengano anche spiegate quindi un minimo di contesto c'è non è che ci si viene cioè non è che si viene buttati così nelle informazioni senza e cioè ogni tanto sì ma comunque se si è un po abituati e avvezzi al gergo teatrale operistico comunque ci si può tranquillamente raccapezzare però c'è un però io ammetto che non sono un amante degli eccessivi salti temporali ma questo mio gusto personale la storia appunto salta tra il settecento e il 2019 il romanzo è stato pubblicato nel 2018 ma l'ambientazione salta tra il settecento e il 2019 tutto inizia con la tragica vita di questa monachella di dresda la quale si diceva avesse delle capacità profetiche questa poverina che veniva da una famiglia poverissima è stata acquistata da un soggetto tutt'altro che a meno il barone tinter fish o tinten fish oddio ogni tanto sbaglio ancora a pronunciarlo comunque è un soggettone un cattivone ecco è il cattivone principale della vicenda chiamiamolo così per simpatia è il nostro antagonista principale il barone di tinten fish che tra l'altro c'è una sua annotazione in fondo libro quindi capace che andrò a ripassarmi meglio il nome perché ogni tanto mi confondo tra la r e la n tinten fish ecco tinten fish che tra l'altro vorrebbe dire seppia perché a quanto pare c'è un rimando a una figura storica a quanto pare esistita perché all'interno di questo libro si mescolano personaggi storici e personaggi immaginari oppure personaggi storici un pochino rivisitati ovviamente in chiave narrativa dicevo la monachella di teresda che veniva da una famiglia poverissima è stata acquistata dal barone di tinten fish il quale non è che le ha fatto passare una bella giovinezza già era poverina molto giovane in più ovviamente non le fa passare delle belle cose youtube ovviamente non me le fa dire diciamo che non le ha fatto passare dei bei pomeriggi domenicali a fare passeggiate nel convento il problema è che questa monachella non soltanto è maltrattata e le peggio cose da tinten fish che si l'ha acquistata per avere le profezie ma insomma diciamo che si intrattiene con lei in maniera non propriamente a posto diciamo così e soprattutto non consenziente ma suscita anche questa povera monachella che non è che ha fatto niente di male le è capitata sta disgrazia bom e basta attira pure le gelosie della della madre superiore di questo convento che stile novella gertrude della monaca di monza del del manzoni era anche l'amante di tinten fish ovviamente perché anche quest'uomo si dava la pazza gioia e ce l'aveva a suo quanto pare con le religiose aveva un fetiche a quanto pare questo uomo e lei ovviamente si si ingedosisce perché la ragazza è più giovane di lei e il barone in quel periodo si sta troppo concentrando su di lei senza considerare che non è che la monachella sia così contenta di quello che succede però vabbè la madre superiore ovviamente si imbufalisce decide di farla letteralmente fuori ma non fuori nel senso che la vuoi spedire via dal convento vuol farla letteralmente secca ma la stessa monaca di dresda vuole farsi fuori perché non ne può più di quella vita quindi si lancia serenamente tra le braccia del coltellaccio della madre superiore non prima di aver lasciato la sua ultima profezia quella che riguarda un puledro d'oro che rovescerà le sorti del mondo in particolari dei potenti i potenti sui troni verranno rovesciati dall'avvento di questo puledro d'oro in realtà questa profezia della l'ultima profezia della monaca di dresda viene riportata da tinten fish alla sua congrega questo perché perché si introduce l'altro elemento della storia quella probabilmente più legata al thriller cioè il fatto che esistono due società segrete quella di lucifero e quella di mammona che si contrastano tra di loro mammona vuole impedire l'avvento di questo misterioso puledro d'oro affinché il potere rimanga a chi di dovere che quindi il mondo il mondo rimanga così come mentre invece la congrega di lucifero invece vuole invece far sì che avvenga la nascita e lo sviluppo di questo fantomatico puledro d'oro affinché appunto il mondo abbia una nuova prosperità e che quindi quelli al potere tutti cattivi e corrotti vadano all'aria tutto bello tutto bello non è che mi viene molto spiegato cioè per quanto la presenza di queste due congreghe sia importante perché stanno alla base del libro cioè io sinceramente quando l'ho letto non è che mi sono state così ben spiegate sì c'era questa c'è questa congrega una di qua una avversaria all'altra tra l'altro con degli con dei membri comunque anche molto rilevante all'interno della società o del 700 o addirittura degli anni 2000 si fanno addirittura dei nuovi a un certo punto ciccia pure fuori david bowie verso la fine del libro nominato che fa parte di una delle due congreghe cosa immaginatevi il mio stupore che tu sei lì a certo punto arrivi verso la fine a certo punto leggi tra i vari membri del gruppo david bowie ok va bene comunque sto puledro io sto puledro d'oro non il puledro impegnato stavo per dire quello è tolkien sto puledro d'oro chi è in realtà dovrebbe essere una sorta appunto di puer no come un po diceva anche virgilio no aveva profetizzato l'avvento del puer no che avrebbe rivoluzionato il mondo qua è un po la stessa cosa solo che chiamato puledro d'oro perché appunto rampante perché agile perché qui perché là no ecco però tutto bello ma tipo sei due congreghe qua a parte questa cosa dell'essere scissi dal chi vuole che avvenga la profezia e chi no a parte che le stesse profezie della monaca di dresda nello stesso libro a volte vengono messe pure in discussione perché giustamente ci sono degli scettici ma tint and fish no luci che è tantissimo e di conseguenza ci credono tutti perché perché qui avviene un'altra cosa ha già giusto mi sono dimenticata di dirvelo ci saranno spoiler in questa recensione quindi se siete arrivati fin qui potete ancora schippare non avere spoiler e raggiungermi dopo che avrete recuperato il libro se non vi interessa buona ragazzi si va in libertà quindi io vi avviso lo scriverò da qualche parte lo scriverò da non so se anche dentro nel video nella descrizione io ve l'ho detto già stavolta l'ultima volta ho fatto già spoiler e l'ho detto a fine video stavolta o meno dai l'ho detto dopo un quarto d'ora dall'inizio e non ancora rivelato chissà che spoiler dai sono stata brava perché questo è tutto l'inizio è dicevo la questione del puledro d'oro è questa tu mi dirai vabbè ma se alcune addirittura ci hanno in dubbio no le profezie di questa monaca di dresda perché allora si stanno tutti affannando per trovare sto puledro d'oro se qualcuno dice ma sono tutte boiate perché c'è un principio base all'interno di questo libro che secondo me è molto interessante questo mi è piaciuto molto il fatto che all'interno di questo libro si sostiene da entrambe le parti quindi il gruppo di mammona e il gruppo di lucifero che nomi a meno ovviamente no bellissimo bellissimo tipo macarons e baguette non so perché per dire due nomi a caso perché in effetti poi c'è perché mammona lucifero cioè si viene spiegato però sicuramente non è una spiegazione che mi è rimasta particolarmente impressa quindi vabbè buona prendiamola per quella che è dicevo un principio base interessante all'interno di questo libro e che da una parte spiega parte delle vicende è il fatto che esiste la forza del crederci lo so che sembra una battuta della serie sì il 2000 e credici no 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 c'è un principio effettivamente questo può essere interessante alla base c'è il fatto che se tante persone credono fermamente in qualcosa è molto più probabile che questa cosa avvenga perché c'è comunque dell'energia che passa e che quindi fa sì che questa cosa possa molto più probabilmente avverarsi se non proprio compiersi ecco stando a ciò uno dice tipo il gruppo di mammona ma anche quello di lucifero dicono a posto se in tanti o comunque in molti credono in questa profezia la alimentano e quindi è molto probabile che questa persona possa nascere perché ovviamente sanno e l'hanno già capito subito che questo puledro non è ovviamente un puledrino vero ma è una persona è un individuo speciale una persona di grande talento tra l'altro identificato in un periodo specifico del settecento tanto che sia i membri di lucifero che quelli di mammona alcuni quelli a capo ovviamente tengono molto sott'occhio gli artisti o le persone particolarmente di spicco a livello artistico nati in un certo periodo di tempo tra questi ovviamente c'è mozart che quello del titolo appunto il nostro buon mozart proprio lui colui che tra le varie cose ha composto delle opere meravigliose c'era bene nozzi di figaro così fan tutte va bene non stiamo qua a elencarle tutte però una ve la devo nominare perché viene a sua volta nominata qua dentro ossia il don giovanni io qui vi sto mostrando uno dei tre dischi che mi furono donati in realtà ho anche gli originali ma vabbè adesso vi faccio vedere una una copia del don giovanni ora vedrete tutto malissimo però questo è il don giovanni di mozart che tra l'altro vi consiglio di recuperare perché un'opera bellissima lo so l'opera dura tanto ma merita è cultura generale tra l'altro l'opera è diventata patrimonio unesco direi che è un traguardo importante in particolare l'opera italiana proprio per specificarci però in generale comunque ecco dato che molta dell'opera italiana ecco comunque dicevo mozart il compositore che tra le va poi fatto anche la piccola serenata notturna la la marcia alla turca quindi ha fatto anche sinfonia il requiem ovviamente cioè io cito mozart in particolare di mozart cito il don giovanni perché viene nominato anche qua dentro e poi perché si parla di opera o meglio si parla si accenna all'opera detto ciò voi direte vabbè ma scusa se a questo punto si cita mozart tra i papabili del testo è ovvio che c'è il protagonista perché allora l'inizio virtuo hai detto dovrebbe essere è perché questa cosa che uno è mozart innanzitutto se lo dicono abbastanza avanti nella vicenda perché tutta la prima parte del libro è tutta una preparazione per arrivare alla seconda parte del libro perché si introducono molti dei personaggi antichi e contemporanei che agiscono all'interno di questa vicenda anche se in realtà non è che compaiono proprio tutti tutti fin da subito la storia inizia già appunto nel passato come vi dicevo tutta la questione di tintem fish che cerca di dire dobbiamo trovare il puledro lui per farlo fuori perché fa parte del gruppo di mammona e altra gente invece che fa parte del lucifero per fare il contrario chi è che fa parte del gruppo di lucifero un botto di gente tra questi c'è il conte di san germain e no non sto sbagliando l'articolo è fatto apposta nel senso che il conte di san germain che è già una figura alchemica particolare eccetera eccetera mitologica sotto molti punti di vista è all'interno di questa storia un vetrino un po una sorta di parodia note la trinità a mio avviso perché questo conte in realtà è composto da tre persone che si assomigliano tantissimo non è che si capisce esattamente benissimo meglio non mi sovviene precisamente se erano tre gemelli o meno ma molto probabilmente no perché avevano tutte e tre storie diverse praticamente sono questi tre uomini che tutti e tre sono conti di san germain sono il conte di san germain e questo contribuisce a dare una fama ancora più supernaturale a questo soggetto oltre che per la ricchezza le conoscenze alchemiche artistiche matematiche scientifiche insomma questo qui la sapeva di tutte è riuscito anche a introdursi a corte una delle motivazioni per cui è riuscito a introdursi nella corte francese di versailles è stato grazie all'intervento di madame de pompadour la quale avrà un ruolo abbastanza interessante all'interno di questa vicenda ma questo poi ne parliamo in corso dicevamo il conte di san germain deve appunto riuscire a entrare e a corte perché è molto importante avere delle conoscenze a quei livelli affinché appunto sia più facile provare individuare chi sa questo puledro d'oro nel frattempo di tutto ciò si narra che nel 2019 il maestro tondi flavio tondi maestro eccellentissimo tomber de fam grande direttore musicista violinista grande talento eccetera eccetera che suona sto stra di varie da una vita deve tenere su questo concerto fantastico alla quale tra l'altro assiste la sua nuova moglie e la sua ex moglie se l'è sposata tre volte ma tutte tre le volte alla fine si sono separati perché ha dei caratterini un po particolari no la buona braver ma perché lei di cognome fa braver ma poi recupererò anche il nome preciso di di lei che anche lei era un personaggio carino sinceramente vediamo un po se ritrovo il nome perché è pieno di personaggi in questo libro ragazzi quindi dovrò spesso spulciare in fondo ecco flavio tondi eccolo doveva esibirsi al teatro reale di madrid che appunto il momento in cui poi lo incontriamo no niente a quanto pare no tutto bello ma non c'è il nome della della moglie di di flavio vabbè che brutta cosa dicevo poi mi verrà in mente più tardi comunque dicevo ci sono talmente tanti persone che devi sfogliare tutto l'elenco alla fine dicevo durante l'intervallo di questa sua esibizione succede un priquo qua il fatto che il suo violino rimanga incastrato in una porta scorrevole e quindi questo va in frantumi però va in frantumi sì perché si è incastrato e tutto tra l'altro fatto tra l'altro ispirato a un avvenimento vero accaduto un altro direttore virtuoso a livello musicale che è il fabio biondi che alcuni magari appassionati conosceranno che tra l'altro è stato ispiratore del personaggio tra l'altro questo lo si scopre sempre in fondo al libro insomma sto violino si spacca in mille pezzi e lui ovviamente rimane frastornato però lo show must go on quindi comunque riesce a portare a casa il risultato nonostante sia comunque poi devastato e c'è un mio dio il mio stradivari cioè uno cacchio di stradivari voi direte tutto a posto cioè tutto lineare fino a qui comunque sì salto temporale ma è a parte che ripeto i salti temporali sono abbastanza frequenti in più c'è il fatto della voce narrante non è narrato in terza persona o meglio in certi punti è narrato in terza persona in altri punti è narrato in prima persona e il punto di vista e il personaggio cambia moltissimo ma non è che la premessa del libro è è una raccolta di documenti che è stata fatta da un autore anonimo per raccontare una vicenda rimasta ignota al mondo riportare una cronaca oppure è una raccolta di vari documenti stralci di diari stralci di lettere stralci di registrazioni eccetera eccetera che ciò portano effettivamente a una narrazione con tanti punti di vista un po alla donna in bianco di wilkie collins io cito sempre quello perché appunto è uno di quei casi in cui i tanti punti di vista mi sono piaciuti perché in genere a me piace un punto di vista solo ma ripeto mio gusto personale diciamo che questo libro ha anticipato i vari pov salterini degli ultimi anni ecco come moda però ecco appunto cioè tutto sembra che tutto sia narrato da questa fedora che sembra appartenere al gruppo di lucifero poi scopriamo come mai ci appartiene e perché il nome fedora salta fuori più volte in diversi spazi temporali che sembra che oh mio dio magari immortale pure questa c'è un motivo in tutto ciò però non è neanche quello c'è un certo punto il punto di vista cambia continuamente addirittura salta fuori un altro personaggio che avrà una grossissima rilevanza qua dentro più di mozart onestamente il che ti rende un pochettino mi ha resa un pochettino perplessa comunque dicevamo alla rottura del violino il nostro protagonista a meglio l'altro protagonista appunto il buon flavio si accorge che effettivamente sto violino è un po strano cioè ha dentro delle simbologie che gli sono strane non le riconosce e soprattutto dice ma questo non è uno stradivale cioè si scopre che è un altro tipo di violino di un altro artista a si chiamava samuela braver ma è come si chiamava la la ex di di flavio samuela mamma mia samuela braver man simpaticissima devo dire comunque si scopre che appunto è di un altro artista che adesso non vi svelo un po perché non mi ricordo un po perché vabbè me lo tengo un po' in dispare comunque non è un non è un uno stradivari e non è neanche di quel valore economico lui aveva proprio pagato questo violino quindi c'è pure tutta questa cosa qua no e cosa succede succede che allora lei e lui quindi samuela e flavio cercano di un po mettere insieme i pezzi vengono contattati poi dopo un pochino di tempo che cercano di raccimolare di capirci qualche cosa e vengono contattati da questo carlos che sarebbe un amico semi mecenate di di flavio che li invita a casa sua a parigi per parlare del fatto che all'interno del violino ci sono contenute delle informazioni molto particolari che sicuramente potrebbero interessare a flavio e samuela vengono un po' presi non dico coattamente però insomma diciamo che vengono caldamente invitati e infatti samuela che è il personaggio che mi piace è la prima che si fa due domande mentre il live tutto sommato dice ma no ma vabbè dai qui è la bossi sembra strano però proprio il coglioni per samuel fa le domande giuste fa non ho capito ma dobbiamo andare noi a parigi quando abbiamo noi il violino rotto c'è non ho capito ma poi soprattutto perché sta in modalità misteriose per spostarci tra l'altro in realtà prima di questa vicenda c'è tutto un corollario di sottovicende che per esempio fanno capire che samuela ha avuto per un periodo diciamo un amante molto giovane sto tal paolo che si scoprirà essere correlato con fedora che fedora appunto non è soltanto quella che sta cercando più o meno di raccontarci la vicenda anche se ripeto il point of view cambia in continuazione ed è quella che racconta e che a quanto pare ha influenzato la distruzione del violino con a quanto pare una mezza ipnosi così lampo fedora è anche una sarta del teatro ora non mi ricordo di che teatro perché ovviamente vengono citati tanti teatri all'interno della storia però comunque lei è una sarta operistica che tra l'altro conosce benissimo flavio cioè si conoscono pure si danno del tu tanto per intenderci la sciura la signora fedora è anche una signora un po non è giovanissima non è di primo pelo ecco non che samuela sia di primo pelo è una donna matura comunque ancora molto piacente che ripeto appunto c'ha questo amante giovane tra le varie cose prima ovviamente di rimettersi con flavio all'interno della storia che scopriremo essere correlato andando avanti appunto il conte di san germain cerca appunto di introdursi al conte riesce a diventare amante di madame de pompadour che è la favorita del re e riesce lui nel nella persona di rocco perché in realtà il conte di san germain è appunto tre persone marius rocco e albert nella persona di rocco ma con il titolo di san germain riesce a diventare amante di della marchesa di pompadour appunto la favorita del re e riesce a convincerla pure a schierarsi dalla sua parte aiutarlo a rintracciare sto puledro d'oro e devo dire che lei la madame de pompadour mi è piaciuta come è stata rappresentata sia nella parte comunque di libertà non libertinaggio nelle parti diciamo di libido diciamo così ma anche delle parti di riflessione effettivamente quindi tutto sommato non mi è dispiaciuta certo non è che è stata molto approfondita lei però ecco lei sarebbe stato meglio approfondirla però vabbè l'altro personaggio che si intreccia questa vicenda che tra l'altro la madame de pompadour e il suo salotto culturale soprattutto quello privato è molto importante specialmente per la seconda parte della storia nel frattempo che succede la questione del violino la questione di tint and fish e dei conti di san germain che cercano con le rispettive società segrete di impedire o far avvenire la la lo sviluppo di questo puledro d'oro e tutte sotto trame per appunto impedirsi e farsi dispettuccia vicenda diciamo così c'è tutta la storia di venanzio rauzzini che effettivamente un cantante realmente esistito era quello che all'epoca veniva chiamato castrato cioè erano degli interpreti maschili che subivano purtroppo da bambini la perdita provocata da terzi delle proprie parti segrete e più intime impedendone lo sviluppo completo ma facendo sì che la loro voce rimanesse intatta il film su farinelli è abbastanza emblematico di tutta comunque la difficoltà e anche onestamente i traumi e anche la tortura fisica e psicologica che questi bambini subivano da piccoli che avevano già magari un manifesto talento ma essendo magari di famiglie modeste o comunque c'era un gran talento e quindi si voleva preservare questa voce facendo purtroppo questa cosa qua rauzzini appunto è realmente esistito all'interno della storia viene narrata praticamente la sua vita ma ma ripeto fin da quando è piccolino viene narrata tra l'altro in prima persona e racconta di come lui da bambino viene anche lui dopo che si manifesta il suo talento viene venduto dalla sua famiglia che era povere numerosa a questo ecco qua viene venduto al principe raimondo di sangro principe di san severo che a sua volta è un chimico inventore anatomista appassionato di gioco e bla 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 vissuto e nobile sotto il periodo dei borboni per l'appunto viene venduto a questo principe raimondo e viene assistito ovviamente da altri soggettini molto poco simpatici diciamo così e assieme a venanzio c'è anche ferruccio sono questi due bambini molto giovani molto talentuosi che vengono ovviamente presi sotto l'ala mecenate del principe e salvo ovviamente poi subire la castrazione purtroppo in maniera tra l'altro molto violente vi è narrata veramente con queste visioni deliranti oniriche di venanzio molto forti e in realtà la storia di venanzio è anche molto bella cioè tutto lo sviluppo i suoi sentimenti i suoi sentimenti contrastanti tra appunto la sua arte la violenza che ha subito la sua reazione a ciò che cosa accade con ferruccio e tutto il resto e cose gli accade poi successivamente dell'incontro poi di persona vis-à-vis col principe raimondo e il fatto che venanzio stesso entrerà comunque a far parte della del gruppo dei luciferini comunque quindi della del gruppo della della congrega di lucifero per proteggere il puledro d'oro e della sua relazione con pinuccia che anche questa è una ragazza un po particolare eccetera eccetera che anche qui spoiler si scopre che pinuccia che è una delle serve del principe in realtà aveva una relazione con il barbiere che ha compiuto la castrazione su venanzio perché all'epoca veniva fatto dai chirurghi questa cosa qua chirurghi o barbieri veniva fatta e venanzio ha ucciso questo barbiere per vendicarsi di quello che gli ha fatto però pinuccia diciamo che all'inizio lì per lì non l'ha presa bene però poi sviluppano questa relazione un po strana venanzio addirittura diventa appunto un don giovanni vero e proprio eccetera eccetera viene salvato dai tre conti di san germain per appunto allearselo no e portarlo nelle proprie file perché notano in lui un enorme talento che possa effettivamente aiutare sempre a trovare questo puledro d'oro cosa che effettivamente avviene solo che la cosa che mi ha resa un po perplessa non è la storia in sé di venanzio che ripeto è molto bella la cosa che mi perplime che si parla più di venanzio che di mozart sì è chiaro che si intuisce benissimo a un certo punto e poi lo sappiamo anche dal titolo perché il titolo ce lo spoilerà che il puledro d'oro è ovviamente mozart però da una parte ammetto che un minimo più chino più di di sorpresa l'avrei voluta vi dico la verità perché va bene che il thriller non deve non deve per forza lasciare la bocca aperta e deve per forza non spoilerare qualche cosa lo so che non è necessario però non so in questo caso forse l'avegrito però forse perché ci sono talmente tanti personaggi talmente tante vicende che si poteva mascherare per un pelino di più però vabbè scelte autoriali comunque dicevamo tra gli alti e bassi delle questioni di venanzio della sua vita privata che ripeto ha tantissimi interventi si parla tantissimo di venanzio da quando appunto è bambino fino a quando ha 17 18 anni praticamente che è più o meno il momento in cui poi arriva anche lui alla corte di madame de pompadour perché appunto scortato da saint germain nella versione però di rocco non solamente di tutti e tre per quanto anche gli altri due compariranno nella famosa scena del salotto ma ripeto quelle più avanti dicevo a me fa strano cioè in un libro dove nel titolone c'è mozart sinceramente mi aspettavo che si parlasse molto più di mozart invece di mozart se ne parla pochissimo il personaggio proprio di mozart addirittura arriva verso le ultime cento pagine del romanzo tutta la parte prima parla di tutti gli altri personaggi ah per non parlare di leclerc il maestro leclerc ballerino e violinista che ha la fissazione per la moglie maria rosa che purtroppo muore giovanissima proprio durante una rappresentazione davanti al re dove saltava fuori già sta storia del puledro d'oro lei poverina era già malata muore in scena molto peristica come cosa e il marito rimane solo e sconsolato perché lui l'amava moltissimo c'è appunto tra l'altro questa storia qui di leclerc compare all'inizio del libro buttata lì e la resi ripiglia dopo non so quante decine e decine di pagine dici vabbè in realtà poi si scoprirà che anche leclerc fa parte della congrega di lucifero ma siccome ovviamente si nota leclerc ha il punto debole della moglie a un certo punto verrà imbarbatruccato da da quelli di mammone in particolare da tinten fish per ottenere informazioni quindi a un certo punto diventa spia però non volendo a un certo punto tra un po scopriamo perché comunque tutta la parte di leclerc tutta la parte di saint germain perché a un certo punto sempre durante le varie traversie dei vari personaggi che ripeto 30 anni a capire questi cosa fanno cosa non fanno tutti gli altri verso le ultime cento pagine ciccia fuori leo paul mozart il papà di mozart che svela che il figliolo ha composto una musica incredibile lui fa e ma sta musica va nascosta perché allucinante potrebbe effettivamente cambiare il mondo perché qui c'è come principio il fatto che l'arte può cambiare il mondo è quindi anche questa è un'altra cosa molto importante perché unice vabbè ma uno spartito cosa vuoi mai e no perché qui si intende che il potere della musica queste note riescano a suscitare nelle persone negli intelletti delle persone delle consapevolezze delle strabillantissime magiche cose mozart ovviamente tocco magico perché mozart è il genio a livello di musica effettivamente quello più noto anche se in realtà ce ne sono stati tantissimi di geni musicali è assolutamente a me piace molto mozart ma so benissimo che ce ne sono stati tantissimi di artisti di compositori musicisti di enorme talento e genio ma ovviamente mozart è ricordato perché era veramente fuori dal suo tempo per dire lui appunto compone questo già da piccolissimo nei deliri della febbre perché si ammala il bambino perché lì è ancora bambino quando si lo si accenna la prima volta ma anche quando se ne parla è un mozart comunque ancora bambino durante i deliri della febbre compone questa musica che deve assolutamente essere nascosta quindi per quanto san germain dica no no la proteggo io perché qua è una cosa importante dato che sospetta che sia proprio mozart a un certo punto il puledro d'oro che debba rivoluzionare il mondo in questo caso tramite la musica lecler dice vabbè io però sono musicista che più di un musicista può nascondere la musica di un altro musicista e in effetti così avviene ed ecco chi è che ha avuto l'idea di nascondere la musica appunto questo spartito nel violino nel violino ritrovato e utilizzato per anni da flavio tondi nelle sue esibizioni credendolo uno stradival in realtà era un altro mastro liutaio che l'aveva creato per lecler tanto che si cita lecler a un certo punto all'interno cioè si cita che è lecler che ha fatto incidere questo e c'è una frase tra l'altro molto tristina sul povero lecler che si redimerà come personaggio comunque tra l'altro ricordo che nel momento in cui lecler propone di nascondere la musica di mozart bambino non aveva ancora tradito quindi effettivamente ci sta nel frattempo flavio tondi e la moglie samuela appunto riescono a incontrarsi con questo carlos il quale insomma cioè diciamo che ha vuole coinvolgerli appunto nella conoscenza di questa storia dietro più violini perché ci sono due violini in realtà uno ce l'ha lui e uno appunto era quello di di flavio solo che all'inizio lo attrae con la scusa del no ti dobbiamo aiutare deve essere stato un trauma enorme per te adesso chiamo i migliori esperti vediamo cosa si può fare per il violino in realtà si scopre che loro li hanno mandati lì perché vogliono impossessarsi dei frammenti del violino ci sarà però boris che è una spia della congrega di lucifero nel 2019 all'interno invece del gruppo di carlos che invece fanno parte del gruppo di mammona in realtà li coglie in castagna riesce a portar via flavio samuela ed entrambi i violini e portarli a parigi ma da un'altra parte a portarli verso il teatro dell'opera garnier ah già giusto è vero ora che mi ci fate pensare fedora era mi sembra una delle sarte dell'opera garnier che sarebbe l'opera di parigi e ovviamente boris comincia un po' a dare degli acceni di cosa sta succedendo e quindi sempre di questi flashback eccetera eccetera no vi dirò la parte contemporanea è stata la parte per me più van più noiosetta è più interessante la parte ovviamente ambientata nel passato perché è lì che sono accadute le vicende chiaramente nella contemporaneità il momento in cui si fanno le file si arriva a un certo punto a ritrovare finalmente la musica creata dal puledro che tra l'altro anche qui spoiler la musica del puledro d'oro cioè in questo caso di mozart in realtà ha un fortissimo richiamo con l'over tour del don giovanni che notoriamente si sa storia vuole che mozart l'abbia composta pochissimi giorni barra ore dalla primissima del don giovanni cioè doveva andare in scena il don giovanni e non c'era l'over tour e mozart si è messa a farla e storia in questo caso il romanzo narra che dai recessi della sua mente infantile abbia ricicciato fuori alcune parti di questa overture mettendola nel don giovanni ma non era esattamente quella che aveva scritto poi quella che andò in scena la vera partitura è quella che è inserita parzialmente all'interno del del violino è una parte mancante dell'over tour del don giovanni che messa insieme a tutto dovrebbe creare questo effetto mega wow di consapevolezza di rivolgimento del mondo quindi a un certo punto boris e samuela e flavio debbbero andare all'opera per riuscire effettivamente incontrarsi con poi si scoprirà fedora la quale a sua volta narra ai protagonisti o comunque noi lettori ci raccapezziamo con la storia che lei ha raccontato poi dopo anche a loro nel senso che non è che poi fedora si mette a raccontare tutto quello che noi abbiamo letto nel libro diciamo che c'è la classica frase dell'adesso vi racconto cosa è successo ma in realtà tu sai già cosa è successo lettore perché l'hai letto fino adesso e meno male perché ci mancava pure ripetere tutto quanto da capo che è già bello lungo comunque quando è che succede veramente il patatrack quando mosa il bambino insieme a sua sorella nannerl e al padre leopold fanno questa esibizione privata per la marchetta di pompadour dove tra gli invitati appunto c'è rocco nel conto di san germain ci sono gli altri due conti san germain ma sono in incognito però sono presenti anche loro per sentire le prodezze di mozart bambino viene anche invitato venanzio perché è celle come appunto soprano castrato e oggi verrebbero chiamati controtenori all'epoca erano soprani perché le donne non potevano cantare le donne era vietato cantare bellissimo tutto bello tutto bello e anche altre due tre personci mi sembra che c'è anche dentro le claire e un'altra persona ancora che fa comunque tutti che in teoria fanno parte della congrega di lucifero assistono a questa esibizione privata di madame de pompadour nel suo salottino culturale per sentire i prodigi di mozart ed effettivamente tutti riconoscono in questo bambino grazie al suo talento il fatto che lui potrebbe essere questo pullet d'odoro peccato che le claire a questo punto ha tradito e tinten fish rompe in scena con il re il quale re non era stato avvisato di questo incontro privato il re che è un rompipalle mai visto infatti la povera pompa duelli che c'era dopo mano insomma veramente va tutto a schifio perché ovviamente tinten fish cerca di aggredire e di prendere il bambino perché anche lui lo ha sentito ha capito allora avete l'avete trovato voi il pullet d'odore quindi adesso posso pigliare posso farlo fuori il re ovviamente si imbufalisce perché alla compadour mi fa i festini di nascosto che anche lì c'è il re quello più insulso possibile in realtà capisco che sia tale perché deve fare da critica proprio contro quel potere che la musica dovrebbe rovesciare lui il re è il classico esempio re luigi è proprio l'esempio perfetto del lui che ha paura di essere soverchiato ma al contempo comunque è proprio l'esempio del perché andrebbe soverchiato perché viene rappresentato nella storia in questo romanzo come un re inutile un re flaccido un re qui insomma fissato debole a livello soprattutto psicologico che è viziato proprio un bambino capriccioso per tanti aspetti e povera madame de pompadour che lo deve dovreso sopportare tra l'altro in tutto questo madame de pompadour nel frattempo che accade tutto ciò tra il festino e dopo anzi forse più dopo che prima lei rimane incinta di rocco uno dei conti di san germain partorisce queste due gemelline una di queste si chiama fedora tra l'altro e sembra che lei voglia andare via tipo in americo comunque voglia lasciare la francia per cambiare vita perché sa benissimo che una volta che si sarà scoperto chi è il puledro d'oro succederà il macello e non vuole che le sue figlie vengano coinvolte né lei né le sue figlie brava ecco vedete samuela e madame de pompadour sono le due donne le due protagoniste intelligenti di questa vicenda o meglio in realtà sono personaggi secondari però si dimostrano sinceramente le più intelligenti per quanto per carità anche san germain non scherza comunque cioè abbastanza acuto dicevo la questione però del post salottino esibizione di mozart dove appunto si incontra con venanze e quindi si presagisce il fatto che per quanto a mozart non piacciono le voci da castrati anche se effettivamente già nel periodo di mozart si comincia a far sì che anche le donne cantino insomma è un periodo un po intermedio se non ricordo male poi se qualcuno si ricorda meglio le date precise che ripeto ora al momento lo sto dicendo a braccio se andassi a ripassare lo saprei anch'io però dato che sto parlando a braccio o solo qualche appunto sotto vi invito a scriverlo qua sotto con educazione nella sezione commenti così avviamo un pochettino il dialogo e se avete delle informazioni più precise delle mie mi raccomando scrivetemele qua sotto e dicevo dopo l'esibizione di mozart nel salottino privato della pompadour ovviamente succede il macello appunto la pompadour viene cazziata dal re perché no tu cattiva qua e la i conti di san germen tipo rocco sta mi sembra lì a difendere la famiglia mozart proprio con la spada perché tinte fish ovviamente cerca di ammazzarli a quanto pare a quanto pare a quanto intende fare cerca di ammazzarli allora rocco cerca di difendere proprio con la spada mentre albert e marius invece prendono la carrozza e cercano di portarsi dietro la famiglia e venanzio cioè i mozart e venanzio purtroppo albert a un certo punto mi sembra che comunque riesca a salvarsi nonostante venga ferito marius purtroppo viene ferita a morte e morirà durante la fuga venanzio poi grande cocchiere che riesce a portare la famiglia salvo poi un barbatrucco allucinante che a quanto pare i mozart sono stati spostati nel frattempo in un'altra carrozza quindi tinte fish stava rincorrendo una carrozza vuota come diversivo e a quanto pare sono riusciti a far sì attraverso probabilmente qualche intruglio alchemico o pseudofarmaco tale a convincere i mozart che in realtà non è mai successo niente di quello che è avvenuto nel salottino della pompatura tinte fish invece rimane ancora bello in piedi a quanto pare però rimane scornato perché alla fine non ce la fa perché la famiglia poi i mozart scapperanno a londra quindi gli sfuggirà e non è che riusciranno tanto facilmente a quanto pare a riprenderli che poi io mi domando ma scusa sono solo in francia questi cioè è una congrega che sembra super mega pro non ho capito qual è il problema cioè non lo so io vabbè nel senso sì c'erano dei problemi logistici intendo dire però se è una congrega così potente come viene nominata qual è l'impedimento di trovare degli adepti anche in altre nazioni se è una congrega così grossa cioè vuol dire che erano i quattro gatti a quanto pare e vabbè sembrerebbe comunque insomma delle somme del libro poi dopo ritorniamo nella parte del 2019 di quando appunto fedora samuela flavio boris ivan o ivan che è l'altro che fa spallina con boris e che ha aiutato i signori tondi perché decidono di ridichiararsi amore samuela e flavio durante questa avventura allucinante in elicottero che dal castello di carlos bayer arrivano poi a nel luogo dove ci stanno fedora paolo l'ex amante giovane di samuela appunto boris e ivan che fanno parte della congrega di lucifero per informare loro del perché appunto sia così fondamentale recuperare questi violini eccetera eccetera e fare eseguire proprio a flavio tondi l'intero pezzo dell'ouverture del don giovane di mozart compresi i pezzi segreti nascosti all'interno del violino che tra l'altro c'è anche un altro flashback del povero leclerc che fu lui a tradire come ho detto prima durante la scena del salotto da pompadour perché ingannato da tintem fish il quale gli aveva promesso che attraverso le sue magie alchemiche gli avrebbe fatto riavere in vita la moglie maria rosa si chiama veramente marie rose la chiamiamo maria rosa maria rosa quante cose no lei non c'è più quindi non possiamo giocarla questa carta che tristezza scusate il black humor dicevo lui ingannato da tintem fish decide di tradire svelando l'esistenza di questo incontro segreto al salottino della pompadour per sentire wolfgang amadeus mozart però lui comunque nonostante ciò dopo questa questa aggressione di tintem fish eccetera eccetera capisce di essere stato veramente molto cattivo e la parte proprio della redenzione di leclerc di come leclerc riesce a fingersi morto perché riesce a trovare il modo di fingersi morto ed effettivamente è una cosa che potrebbe essere un buco di fortuna allucinante però vabbè diciamo che ci può stare perché dobbiamo un po sospendere l'incrodulità perché sì è un thriller storico ma c'è molto del paranormal all'interno cioè questa cosa dell'usare l'alchimia delle persone un'etrina insomma ci sono molti aspetti che la musica poi ti rende paranormale quindi ci ok bisogna un po entrare in questo universo un po così come leclerc si è arrivato effettivamente a redimersi a vivere veramente una vita miseranda fino alla fine pur di mantenere almeno il segreto nella speranza che almeno quello si possa salvare e redimersi dalla sua colpa di aver tradito per debolezza effettivamente qui è credibile cioè è credibile che il tradimento sia stato fatto da leclerc proprio perché si sapeva benissimo qual era il punto debole ci piace vincere facile la cosa che mi domando io è però cioè raga avete l'anello debole nel gruppo ma volete fare qualcosa per aiutarlo un pochettino sto uomo invece che mandarlo solamente a donnette perché sì il conto di san germen ha l'ottime dei di ma sì dai vai a prostitute ma non nel senso di mandarlo al diavolo lo manda letteralmente da una donna che a quanto pare lei libera professionista che può fare del suo corpo ciò che vuole lei a quanto pare è un abile cosplayer nel senso che effettivamente riesce a vestirsi e a rendersi identica a maria rosa da un ritratto a vabbè bravissimi cioè cosplayer di altissimo livello cioè roba che andrebbero a ruba povero leclerc effettivamente ti fa molta tenerezza come personaggio ed è lui che salva la musica inserendo appunto all'interno di questo violino fatto da un lutaio tra l'altro a sua volta scambia dei violini per far sì che si creda che lui sia morto quando in realtà non è così però poi il violino effettivamente riesce a essere tramandato all'interno comunque del gruppo l'eclare stesso che chiederà perdono oppure all'interno del violino mette un'incisione latina apposta per dire per redimere i suoi peccati cercherà di appunto per redimere la sua colpa cercherà di eccetera eccetera tra l'altro una cosa particolare sempre all'interno di questo libro è il fatto che il gruppo di lucifero abbia questa concezione dell'io sono il tutto questo fatto che l'individuo abbia sì una forza di volontà tale e un'unicità tale che lo rende comunque superiore ai re no e a quella che la nobiltà del tempo perché perché tu c'hai una tua personalità dei tuoi talenti delle tue caratteristiche che ti rendono unico e quindi quell'unico non deve sottostare a nessuna forza di potere maggiore specialmente se la reprime e impedisce la libera espressione della propria libertà un concetto questo molto interessante dicevo tutto bello appunto tornando nel 2019 mentre fedora è lì che assieme agli altri sta lì a fare il puzzle per rimettere assieme il violino e succede che si scopre che ivano a sua volta è una contro contro spia hai capito ivano e quindi salta fuori che ritorna buyer con i suoi scagnozzi armato che minaccia di sparare a tutti specialmente a fedora effettivamente parte qualche colpo purtroppo ci rimette samuela perché samuela si mette in mezzo per salvare la shura fedora rip samuela insegna gli angeli a ragionare nei momenti giusti ma non a buttarsi ad avolo d'angelo tipo avete presente mary morstan nella serie della bbc sherlock in quella cosa orribile che è l'ultima stagione di quando lei si butta a volo d'angelo per salvare sherlock dal colpo di sparo della della vecchietta ecco samuela fa lo stesso volo d'angelo non imitate quello per cortesia quindi niente samuela purtroppo la salutiamo carlos buyer e i suoi vengono che quelli fatti fuori barra neutralizzati nel frattempo in tutto ciò tra l'altro che trattato è l'incipit del libro questo qua in un posto alle canone sono le canarie dove che stavano risulta al mare caraibico malesiano sa dio dove sta comunque questo qui sta al mare bello beato che deve solamente fare un click di invio perché devi inviare un messaggio di disturbo nel lettere proprio a quell'ora quella sera che era in realtà poi si scoprirà perché anche qua i salti temporali sono continui si scopre che nel prologo ci si ricollega in maniera circolare al finale quindi tutta la storia della sparatoria viene prima dell'invio di questo fantomatico fastidio internettiano nei confronti ovviamente del gruppo di mammona perché perché quella stessa sera lì il buon flavio tondi finalmente con la sua orchestra suonerà l'overture completa del don giovanni con tanto della musica dentro quella del puledro d'oro del nostro mozart e quindi la musica meravigliosa che dovrebbe svelare l'onoscibile universo mondo ecco ed effettivamente poi questa cosa viene messa in scena e niente ci dice quanta cosa bella quante cose bella musica miracolosa che infatti il libro finisce così il libro finisce con l'esecuzione che viene fatta mammona viene il gruppo di mammona viene sconfitto perché flavio tondi riesce comunque a fare la sua performance e quindi la musica viene riprodotta quindi dovrebbe creare questo effetto magico di soverchiamento dei poteri eccetera eccetera che non viene narrato però voi giustamente mi chiedete ma scusa ma madame pompadour dove è andata a finire questo avviene se non ricordo male poco prima della fine del libro è sempre uno degli episodi sempre dei vari delle varie parti ovviamente però siamo ovviamente verso la fine che cosa è successo a madame de pompadour prima di questa cosa di flavio tondi che nel futuro riesce a far suonare l'over tour completa del don giovanni si narra dal punto di vista di una rondine una non è la gabbianella non è fortunata della gabbianella è una rondine che non si sa chi è non è neanche la rondine di wild del del principe felice sei per quello non si sa è una rondina caso che dal suo punto di vista quindi la rondine che narra si vedono le cose le ultime cose come se si volessero dipanare tutte le vicine dei personaggi attraverso un punto di vista dall'alto interessante come idea ma all'ennesimo punto di vista sinceramente anche basta non ce la faccio più a starvi dietro dicevamo si scopre che madame de pompadour con uno dei fratelli anzi con albert con albert che appunto l'altro fratello mi sembra superstiti del conto di san germain e le sue due bambine pigliano e se ne vanno perché è avvenuto la questione del salottino lì della dell'aggressione ai mosert eccetera quindi fa ok qua il gioco iniziato avete capito chi è io me la abatto io quello che dovevo fare l'ho fatto cioè io di permettervi di fare questa cosa io e le bambine ce ne andiamo rocco rivedrà più le sue figlie non si sa rocco appunto invece l'altro contro di san germain l'unico contro di san germain poi rimasto in francia appunto rimane lì il cadaveri di marius a un certo punto per non si capisce bene come mai viene ritrovato in mare e viene assunto in cielo a tempo indeterminato come spirito non dico tipo la sirenetta ma quasi ma la sirenetta di anderson non quella della disney anche perché non viene assunto in cielo dicevo tinten fish continua le sue diciamo bricconate per non dire altro anzi proprio le sue violenze lui le perpetra così tranquillo tanto c'è ma sì dai per oggi va così il re che re luigi che ovviamente si dispera perché crede che la sua favorita sia morta quando in realtà lei ha finto la sua morte anche lì con lo stratagemma eccetera eccetera dello scambio di persone bla 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 per perché lei così poter possa scappare e qui e poi i mosar che sono a londra e quindi c'è moda dicevo guarda narondine ecco per dire dove sono andate a finire cioè sono in una casa sono sani e salvi non ricordano niente di quella volta eccetera eccetera finale finalone nel futuro appunto c'è questa cosa qua l'altro ulteriore finale che è il vero finale è la risoluzione della storia di venanzio perché come detto sta storia è intricata sono più di 300 sono circa 300 qualcosa di pagine questo romanzo venanzio a un certo punto nel 1691 ormai insomma ha una certa ha una certa età nel senso che effettivamente appunto lui era già più grande di mozart e quindi insomma con lui la sua carriera l'ha fatta anche lui si è trasferito a londra ha fatto carriera appunto con mozart perché appunto rauzzini è stato effettivamente il soprano castrato preferito di mozart quindi effettivamente ha avuto con lui anche un rapporto lavorativo per quanto mozart abbia sempre preferito le voci femminili che fortunatamente avevano poi cominciato a far carriera pure loro grazie a dio perché poi dopo non si è più fatta quindi nessun ragazzino ha dovuto più soffrire dall'altra tra virgolette è stato un problema per chi era già in quella condizione perché ha dovuto subire tutto un certo tipo di declino rauzzini non l'ha avuto perché effettivamente ha fatto molta carriera però lui ha sempre avuto con sé lo spirito di ferruccio ferruccio purtroppo e questo viene narrato all'interno del romanzo purtroppo muore prematuramente durante un'esibizione al san carlo davanti al principe raimondo lui purtroppo muore cadendo da un'impalcatura del teatro e infatti dopo questa dopo questa morte infatti oltre a vendicarsi per quello che gli ha fatto è l'altro movente per cui insomma il nostro rauzzini farà fuori il barbiere perché lo riterrà comunque responsabile di tutte le sue disgrazie oltre che per vendicarsi di quello che gli ha fatto viene esplicitamente proprio detto e il fantasma di ferruccio è quello che narra l'ultimissimo capito del romanzo che è molto tenero di questa amicizia fraterna nata in quelle condizioni perché non erano veri fratelli lo sono diventati convivendo fin da bambini e l'affetto che comunque venanzio ha sempre avuto nei confronti di ferruccio nonostante anche lui non ci sia stato più ma al contempo ferruccio gli è sempre stato accanto come spirito nonostante tutto ed è lì ad accompagnarlo anche nel suo ultimo viaggio quello che lo porterà ovviamente dall'altra parte molto bello per cui io vi dico la verità io la storia di venanzio l'avrei voluta proprio in un romanzo a parte cioè talmente ben fatta talmente ben costruita talmente approfondita ed è anche commovente in tanti punti sono stati secondo me i punti più commoventi sono stati proprio la storia di venanzio e di ferruccio specialmente ovviamente venanzio perché lui è quello che sopravvive che meritava un romanzo a parte e cioè e per esempio un'altra cosa è che io questo romanzo qua l'avrei intitolato 1391 la profezia del puledro d'oro piuttosto che uno sarebbe stato più coerente due non avrebbe subito spoilerato tutto e poi appunto poi violino di lucifero cioè sì perché è del gruppo dei lucifero ma cioè ti dà tutta un'altra idea c'è sul titolo qua un pochino clickbait se posso fare una critica perché sembra che si parli dell'ultimo anno di cioè del 1000 cioè non dell'ultimo anno si parla del 1691 si parla di mozart e del fatto che magari lui sia entrato in possesso di questo violino e del perché per come ce l'abbia fatto eccetera eccetera boh a me non sembra cioè anzi non è che se non sembra non è questo non è questo io mi aspettavo altro mi aspettavo molta più rilevanza su mozart in realtà dato che c'è nel titolone c'è pure come vedete anche il suo faccione nel dipinto classico nella nel ritratto classico mi sono rimasta un po così cioè il libro non è male deve devono piacere molti elementi bisogna saper gestire i salti temporali bisogna avere delle buone conoscenze in ambito operistico teatrale e quindi musicale il fatto che la storia poi è sempre narrata al presente cioè fai fatica poi a darti un'idea poi si ci sta che come un buon trader tu poi ricostruisca tutta la vicenda a fine storia ci sta è giusto quello è corretto però tutti questi salti temporali a me sinceramente non sono piaciuti moltissimo io avrei anche preferito un approfondimento anche sugli altri membri del gruppo di mammona cioè si parla solo di quelli di lucifero ho capito che loro sono i buoni ma se tu mi parli due con grega a un certo punto non è che c'è solo tint and fish lì dentro cioè non è che fa tutto lui invece sembra che faccia tutto lui poi tint and fish assolutamente il cattivone più del mondo però non mi sembra che anche quelli con un gruppo che si chiami lucifero ho capito che sono i portatori di luce quindi in realtà non la prendono come accezione dell'angelo caduto lo prendono come accezione proprio del significato del nome però scusami se quelli hanno preso l'accezione di mammona e voi quelli di lucifero vuol dire che ci deve essere un motivo cioè o meglio si è un po detto però insomma non è che è messa giù così rilevante e ripeto la cosa che mi ha più stranito è il fatto che di mozart se ne parla veramente pochissimo si parla di tutti i forche di lui e sinceramente se ho un titolo del genere io mi aspetto un libro con protagonista mozart o comunque dove di mozart se ne parli anche abbondantemente quindi no se cercate un thriller storico che parli di mozart questo non lo è se volete un thriller dove si c'è anche un po di mozart ma ci sono intrighi salti temporali violini nascosti con partiture spartiture nascoste eccetera eccetera e con tanti point of view questo è il libro che fa per voi se invece non gradite molto i salti di point of view se non vi piacciono troppi salti temporali se comunque non vi piacciono i romanzi e i thriller storici perché comunque qui dentro si c'è della storia ovviamente però è anche tanto romanzata c'è molto del paranormal c'è tutta una concezione che bisogna entrare all'interno del libro però i punti di forza sono appunto la peculiarità perché effettivamente non avevo ancora trovato nelle mie personali letture un libro del genere spero di trovarne anche degli altri in futuro se avete dei suggerimenti mettetemi il qua sotto sempre a tema opera barra musica classica lo stile è molto scorrevole quello assolutamente sì le ambientazioni non sono tediose nel senso che effettivamente le descrizioni sono giuste la lettura è scorrevole le immagini sono vividi certi dialoghi sono molto belli certe scene sono molto commoventi certi punti sono un po noiositi come tipo tutta la parte ambientale nel 2018 19 è una barba cioè a me quella non è piaciuta è stata più bella la parte arcaica però in sé se vi piacciono cose del genere buona e non solo vi dico anche questa piccolissima chicca ho scoperto leggendo in fondo al libro e una volta ultimato il romanzo vi consiglio di andare a vedere l'elenco dei personaggi in fondo perché è molto importante scoprirete che questo romanzo è ispirato a un gioco di ruolo e già 1791 la profezia dice il libro è un gioco di ruolo nato circa nove anni fa dalla collaborazione tra davide livermore che è uno dei due autori marco vernetti enrico roseo alessandra premoli e natalie ideana che ha ispirato livermore e mogliasso nella stesura di questo romanzo quindi effettivamente poi dopo capite perché ci sono certi point of view certe dinamiche un po così perché nasce da un gdr in un gioco di ruolo il che da una parte è molto interessante dall'altra secondo me appunto tutta la parte di venanza meritava una cosa se io tutta la parte contemporanea l'avevo tenuta solamente come guizzo finale ma non l'avrei portata avanti così in parallelo perché ripeto è stata la parte per me più noiosa mi sarei molto più concentrata sulle dinamiche tra le due congreghe e la lotta tra queste due congreghe per scoprire chi è il puledro d'oro non sponerandomelo in questo caso all'inizio del libro non lo so l'avrei apprezzato di più però ripeto non è un brutto libro però ha tante caratteristiche per una per un pubblico un po tanto di nicchia ci sono delle volgarità ci sono violenza ci sono parolacce ci sono abusi vari trigger warning di vario tipo che al tempo ancora non c'erano ma ovviamente qua ce ne sono e questa è più o meno è la mia opinione ripeto gli do un tre tirato perché ripeto è scorrevole i capitoli sono anche brevi quindi per chi magari vuole leggersi la sera si fa fuori due tre capitoli come ridere ripeto lo stile molto scorrevole quindi assolutamente sì descrizione anche fatte bene certe dinamiche anche sono belle e tutto però ecco tutte le cose che ho narrato prima sarebbero stati di punti che se aggiustati o eliminati le avrebbero reso secondo me è un libro molto molto più bello però vabbè opinione personale da editore e da lettrice dunque ragazzi io spero che vi siate divertiti bar incuriositi fatemi sapere voi che cosa ne pensate se l'avete letto se avete altri titoli a tema opera compositori e musica classica cantanti lirici come protagonisti o personaggi principali da citarmi qui sotto in descrizione io vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata di vi recensisco vi ricordo che potete sostenere il canale attraverso l'iscrizione che è gratuita così come sono gratuiti i like sotto al video il commento e la condivisione se invece volete potete fare di più ci sono le varie super chat durante le live del canale i super grazie sotto tutti questi video tra cui ovviamente quello in corso oppure se proprio volete volete c'è modo di aiutarmi sulla mia pagina itp anche solo con un caffè al mese potete accedere a diversi contenuti tra i quali appunto le virreaction i video in anteprima dei video esclusivi insomma un sacco di cosine carine sempre se volete e potete assolutamente già che mi supportate guardando i video facendo scorrere le pubblicità iscrivendovi condividendo già questo è molto 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 importante io vi ringrazio vi saluta anche mozart in realtà è mozart bambino però fa niente vi saluta anche lui noi ci vediamo alla prossima puntata di vi recensisco con il romanzo che è stato scelto da voi ragazzi ossia il cacciatore di draghi di tolkien ciao a tutti